E' l'edizione del cambiamento, l'ottava del contesto fotografico, uno scatto per San Ciro che valorizza il culto e la fede per il santo patrono della città delle ceramiche. L'attuale emergenza epidemiologica non permetterà di poter vivere da vicino i rituali di fede e civili che per secoli hanno caratterizzato la tradizione della comunità. Il cambiamento del contesto fotografico è particolarmente mirato al contesto attuale, pertanto le due nuove categorie sono i riti religiosi e i riti civili. Il web dunque diviene quest'anno ottimo alleato, riconfermando la collaborazione tra la Proloco, la collegiata Maria Santissima Annunziata, la Chiesa Madre di Grottaglie con il comitato festeggiamenti patronali da sempre vicini al concorso. La giuria di qualità è composta dall'arciprete della Chiesa Madre, Don Eligio Grimaldi, l'assessore al turismo Mario Bonfrate, Vito Miale, esperto in fotografia e Silvano Trevisani, caporedattore del Nuovo Dialogo. I due vincitori saranno premiati dai maestranze della ceramica locale. Il concorso inizierà il 17 gennaio e finirà il 28 gennaio. Ogni partecipante potrà postare al massimo tre foto. Nella pagina Facebook uno scatto per San Ciro. Non saranno ritenute valide le foto con laica acquistati. Sono accette anche le foto degli anni precedenti. La premiazione verrà comunicata a chiusura del concorso nel rispetto del DPCM.